Ciao amici di Fantapaz, oggi partiamo ormai con la consueta analisi della giornata di campionato che sta arrivando e inizierà come quasi sempre il venerdì sera. Vediamo un altro tipo di formato per questo tipo di analisi, magari per fare un video un po' più breve. Naturalmente nei commenti fatemi sapere se preferite un video più breve, come sarà questo, meno dettagliato diciamo, oppure più dettagliato che però a giocoforza naturalmente durerà di più. Quindi aspetto le vostre idee, i vostri commenti. Naturalmente prima di iniziare vi chiedo sempre di lasciare un like che aiuta sempre per la crescita del canale, l'iscrizione, attivando la campanella che naturalmente vi permette di sapere quando ci sono nuovi video, quando ci sono nuove live. Ne faremo, al di là di quelle dei consigli, ho l'intenzione assolutamente di farne qualcuna, magari anche adesso che ci sarà la nuova sosta per le nazionali. E possiamo subito partire. Partiamo subito con Bologna-Lazio. Nel Bologna vi consiglio assolutamente Calafiori come, diciamo, rivelazione, anche se comincia a vedersi il suo livello. La centrale sta facendo veramente molto bene. Era un terzino un po' scolastico, invece la centrale sta veramente... mi sta stupendo, sinceramente. Quindi bene lui, Ebbscher come rendimento e André un po' come da sconsigliato come Lico Giannis, che comunque è in lotta sempre con Cristian, ma insomma non apporta molto. Stessa cosa sul lato sinistro della Lazio. Marusic non mi convince, è l'unico che veramente vi sconsiglio al 100%. Diciamo rivelazione, perché comunque non è partito benissimo, vi posso dire magari Romagnoli. E quello che in realtà, per non dare una risposta scontata come certezza, direi Rovella, che si sta prendendo il posto di vertice basso, appunto, davanti alla difesa della Lazio. Poi Sardinitana-Napoli. La Sardinitana vado in panchina e vado a prendere Ciauna, che ha segnato due gol in Coppa Italia. Se avete visto il video sulla Sardinitana, al di là che Inzaghi ha ricambiato il modulo, insomma, onestamente pensavo giocassi a quattro, ma ha cambiato il modulo e sta giocando a tre. Però Ciauna ve l'avevo consigliato, insomma, chiaramente come giocatore da prendere veramente come ultimo slot, però sta facendo bene, quindi bisogna dire che sta facendo bene almeno in Coppa Italia, quindi speriamo che possa tornare su... possa cominciare a decidere come, secondo me, è in grado di fare. Mentre scuderei invece Cabral, che è partito benissimo, però si è un po' sceso sotto il suo livello, la certezza invece è Coulibaly. Nel Napoli una rivelazione potrebbe essere Ostigard, che comunque non c'è Nathan, Juan Jesus è appena tornato, anche se potrebbe giocare, c'è sempre Akhmani, però, insomma, quindi il dubbio è che possa anche non giocare, però, insomma, quando ha giocato ha sempre, quasi sempre fatto bene, al di là della fase offensiva, ma anche difensivamente ha tenuto, direi, discretamente. Escluderei Olivera, anche se con Milan non ha fatto malissimo, è subentrato a Mario Rui, c'è sempre il balottaggio con lui, ma dovrebbe giocare, appunto, Olivera. Però lo escluderei, la certezza ormai può essere Raspadoi, che nelle ultime partite sta facendo veramente bene. Atalanta-Inter, io c'è la possibilità che possa giocare Toloi, e lui mi stuzzica come rivelazione. Certezza, ormai, lo direi assolutamente per Cup Miners. So che è abbastanza scontato, però, insomma, magari una partita del genere contro l'Inter, qualcuno potrebbe avere la tentazione, se ha magari delle alternative importanti di non metterlo, ma Cup Miners, così come anche Scamacca, vanno sempre messi. E escluderei, magari, Derun, che in queste partite qui potrebbe anche prendersi un giallo, sì, potrebbe anche fare un bel rendimento, ma, insomma, è sempre a rischio giallo, e quindi eviterei. Eviterei anche Barella nell'Inter. La certezza, anche se l'ultima partita contro la Roma non è stato brillantissimo, direi assolutamente Cialanoglu, e diciamo come rivelazione, anche se rivelazione per modo di dire, insomma, nell'Inter, può essere, potrebbe essere Acerbi, la lotta con Scamacca è interessante, insomma, però, secondo me, potrebbe fare bene. Potrebbe essere un'idea da schierare. Milan-Udinese, anche qui vado in panchina per una rivelazione, perché comunque, ne aspetto che Okafor possa avere una... La partita la vedo abbastanza semplice per il Milan, e quindi Okafor, magari anche durante la partita, potrebbe entrare e fare bene. C'è bisogno di una buona prestazione di Okafor, che comunque ha fatto un paio di reti, però, insomma, ancora non ha fatto quello che ci si aspettava. E come certezza, indubbiamente, in questo momento Tomori, che comunque aveva iniziato male, ma poi ha preso piede, ha cominciato ad essere, appunto, una certezza, e sconsigliato, direi assolutamente, dovesse giocare, può essere facile, può bega. Io avrei anche dei dubbi, dei dubbi su Musa, che potrebbe giocare un po' avanzato, perché comunque Musa in una partita, magari come contro il Napoli, dove ha fatto una bella partita, se non sbaglio, ha preso 6,5, se non addirittura 6,75, sui nostri voti, forse 6,5, e è fatto molto bene, perché comunque andava in raddoppio, su Coraschelia, con Calabria. Qui potrebbe anche giocare, è rientrato lo Stucic, però potrebbe giocare anche avanzato, secondo me, visto che potrebbe non tornare Pulisic, non sono sicuro che Pioli punterà su Romero, quindi Musa potrebbe essere penalizzato, penalizzato dal fatto di giocare un po' più avanti, anche in una partita in cui non deve più attaccare, che difendere. Nell'Udinese, un po' complicato, perché comunque ha perso anche ieri in Coppa Italia, anche se ha fatto un punto contro il Monza, che è comunque importante, qui è molto difficile trovare una certezza, direi, potrebbe essere Wallace, che comunque sta facendo il suo, però insomma, niente di clamoroso, evitare anche sconsigliati quasi tutti, quindi non è, in queste partite qui è difficile, magari dare un solo nome, un giocatore che però potrebbe un po', secondo me stupire, potrebbe essere Lovric, nel senso che ha iniziato male, potrebbe essere una discreta idea, se avete un giocatore da, se avete un centro campo in cui, siete magari in dubbio, Lovric potrebbe essere un'idea da mettere, come rivelazione, come mossa a sorpresa, diciamo. Poi abbiamo Verona Monza, nel Verona sconsiglio, anche se la partita è casalinga, potrebbe essere buona, però, secondo me in gonce, non mi sta piacendo nell'ultima partita, anzi l'ultima è andata anche in panchina, dovrebbe tornare titolare, diciamo, la certezza di rendimento potrebbe essere, un po' la difesa, anche la settimana scorsa, avevo consigliato Montipò, che poi alla fine ha subito un gol, se tra l'altro anche quasi a fine partita, quindi in realtà aveva fatto bene, se non sbaglio ha preso anche un 675-7 da noi, e quindi lui potrebbe continuare a essere una, una buona cosa metterlo, perché comunque, anche lì il Monza sta andando meglio, però non è una squadra che segna tanto, e diciamo come rivelazione, potrebbe essere più, anche qui l'andrei a cercare un po' in panchina, potrebbe, anche se c'è il ballottaggio, però insomma, Diukic ha fatto abbastanza bene contro la Juve, io punterei magari su un Bonazzoli, che entra dalla panchina, potrebbe essere un'idea quella, nel Monza invece, mi sta piacendo molto Chia Kovulos, lui lo dico come rivelazione, insomma, se avete visto altre live, è un giocatore che mi piace, sta crescendo tantissimo, Ciuria sta un po' faticando, ma come avete visto anche magari, se avete visto il video, dei 5 centrocampisti, 5 casi spinosi a centrocampo, lui potrebbe essere una buona idea, non metterlo, la certezza di rendimento invece è Gagliardini, che comunque sta giocando, quasi sempre sopra il 6, Cagliari Genoa, il Cagliari si è ripreso, ha vinto anche in Coppa, e qui come si fa a non consigliare la Padula, anche se non dovesse giocare, come rivelazione naturalmente, e sinceramente faccio anche il nome di Viola, che comunque è entrato bene la settimana scorsa, è entrato bene in Coppa Italia, e non so se giocherà sinceramente, perché comunque ha un ruolo, forse non ha tanti minuti nelle gambe, però insomma, onestamente se lo meriterebbe per i due ingressi, quindi chiaramente queste sono le formazioni giovedì, quindi ancora ci sono indicazioni, considerando addirittura anche la Coppa Italia, che si è giocata ieri, e si gioca anche oggi per altre squadre, potrebbe essere, potrebbe tornare in campo, quindi anche Viola e la Padula, qui vi do due rivelazioni, e eviterei sinceramente Dossena, anche col Fosino è stato un disastro, e quindi eviterei. Nel Genoa le certezze sono Dragusin e Vasquez, come ho detto forse anche altre volte, insomma Dragusin quasi sempre positivo, Vasquez è la stessa cosa, quasi sempre sopra il 6, nei nostri voti, quindi assolutamente sono loro due le due certezze, Malinoski ha fatto l'assist contro la Salernitana, però lo vedo in difficoltà, lo vedo in difficoltà, e quindi lui potrebbe essere il giocatore sconsigliato, una certezza insomma, Gudmundsson, non dico niente di nuovo, lo so, però non si può prescindere da lui, anche se, l'abbiamo detto anche più volte, il fatto di non giocare con Retegui, un po' lo penalizza, perché sì, o Ekuban o Puskas, o se si inventerà qualcos'altro Gilardino, non dà le stesse, le stesse, diciamo certezze, al giocatore islandese, che comunque è in grande forma, e ha segnato già parecchie reti, poi abbiamo Roma-Lecce, nella Roma diciamo la certezza, mi ripeto, è sempre cristante, devo dire anche Llorente, perché comunque Llorente aveva fatto una bella partita contro l'Inter, poi gli è sfuggito Duram, decisivo naturalmente, quindi per il 5 e mezzo che ha preso sulla nostra redazione, che però ci stava, perché comunque è stato decisivo sul gol, quindi il loro due, diciamo le certezze, e mi aspetto una prestazione, è qualcosa di buono anche da UAR, che va un po' a, si alterna un po', alterna un po' partite positive, ad altre meno, e per il resto non c'è Paredes, quindi Cristante torna centrale, e nel Lecce invece, il Lecce è decisamente in calo, bisogna dire anche in Coppa ha perso, contro il Parma, insomma lottando, ma comunque ha perso, la certezza penso che sia Ramadani, comunque a centrocampo, a parte un paio di partite, anche lui quasi sempre bene, in realtà anche Pongracic, mi aspetto una partita, una bella prestazione da parte di Uden, che potrebbe al colpo, per dare fastidio alla Roma, poi passiamo a Fiorentina Juve, un grande big match, nella Fiorentina io punto assolutamente su Parisi, che potrebbe giocare, potrebbe giocare come terzino destro, anche se noi qui abbiamo Comuzzo, c'è questa possibilità, però sinceramente, credo che sia più Parisi, che possa giocare, ha giocato bene anche contro la Lazio, è vero che in ottica turn over, ma insomma far giocare Comuzzo, vediamo un po', probabilmente abbiamo avuto queste informazioni, però insomma come detto siamo a giovedì, insomma c'è ancora tempo, in realtà la certezza è, non si può dire che non sia Buonaventura, e puntiamo su Beltran, puntiamo su Beltran in avanti, perché comunque può fare bene, sta facendo bene, è stato anche annullato un gol contro la Lazio, però insomma ci aspettiamo che possa continuare a fare bene. Nella Juve io dico Ken, vedete voi se come rivelazione o come certezza, forse più come rivelazione, perché comunque sta facendo bene, è vero che gli sono stati annullati due reti, però le aveva anche fatte, e insomma anche per poco sono state annullate, escluderei sinceramente, in questo caso escluderei Rabiot, che non mi sta piacendo quest'anno, quindi lui è assolutamente da escludere, poi passiamo a Frosino-Nempoli, la certezza ovviamente è su Le, mi aspetto che Mazzitelli possa tornare ai livelli buoni, che aveva dimostrato anche prima della squalifica, e qui in realtà la partita potrebbe essere semplice, uno potrebbe essere tentato di mettere un po' tutta la difesa del Frosinone, però sinceramente anche Oiono, Romagnoli, le ho visti leggermente meno attenti in alcune occasioni, quindi potrebbe essere un'idea non schierarli questa volta. Nell'Empoli invece mi aspetto cambiaghi e cancellieri in grande forma, la difesa comunque è sempre un pericolo, Ismaili, anche Obuei, quindi loro li escluderei, mi aspetto invece un nome a sorpresa dalla panchina, che potrebbe essere anche Kovalenko, che non ha giocato tantissimo, però secondo me potrebbe avere una buona chance, l'ho visto in qualche altra partita, le prime partite che ha giocato con l'Empoli, ha qualcosa che può dare qualche idea diversa al centrocampo dell'Empoli, diciamo è chiaramente un nome a sorpresa, quindi non vi facciamo ovviamente nomi scontati. Poi abbiamo Torino, Torino-Sassuolo, nel Torino direi, come rivelazione potrei dire voi Voda, che mi è piaciuto anche contro il Lecce, questo nuovo ruolo da terzino destro, da centrale destro, lui potrebbe essere una buona idea, diciamo come certezza, anche se non è stato tanto certezza, bisogna dire la verità, è Ricci, però sta prendendo piede, diciamo nella scuola del Torino, e escluderei, sinceramente escluderei, più Bellanova che Lazzaro, però insomma le fasce non mi stanno piacendo nel Torino, quindi potrebbe essere una buona idea anche escludere appunto Bellanova. Nel Sassuolo, chi sta facendo male, effettivamente come abbiamo fatto anche nel video, è l'Oriente, che tra l'altro è stato un obiettivo di mercato del Torino qualche, l'anno scorso, prima di andare al Sassuolo, andrei sulla certezza, diciamo più Bolozza, è vero che ha anche segnato contro il Bologna, non ci aspettiamo naturalmente un gol, però è vero che sta giocando su buoni livelli, e una rivelazione, anche qui vado dalla panchina, una possibile rivelazione potrebbe essere De Frel, che non ha avuto tanto spazio, ma secondo me con l'Oriente che non sta andando benissimo, lo stesso Bairami, dal quale onestamente mi aspettavo di più, De Frel non è un giocatore che mi fa impazzire, però insomma è un giocatore che quando subentra può giocare veramente in tutti i ruoli, potrebbe giocare anche al posto di Pinamonti, oppure appunto a sinistra, oppure al posto di Bairami. E quindi queste sono le rivelazioni, insomma un po' l'analisi della giornata, comunque naturalmente, come sempre vi dico, seguite le proprie formazioni di Fanta, perché questi sono a giovedì verso le 16, e ci sono partite di Coppa Italia oggi, ci sono altri allenamenti, altre modifiche possibili, tenete conto anche di quelli, perché molte volte appunto c'è un ballottaggio, perché è veramente un dubbio del tecnico, che si porta fino alla fine, e che poi lo scioglie appunto la domenica, il lunedì, il sabato, quando va a giocare. Questo è tutto per la consueta analisi della giornata, ci vediamo ai prossimi video.